Come ogni giovedì, le anticipazioni del prossimo numero di Luce e Vita è il giornale della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Numero 24 di Luce e Vita di domenica 14 giugno. In prima pagina l'omelia di Monsignor Domenico Cornacchia della Messa Crismale celebrata allo scorso 6 giugno con il clero diocesano e una rappresentanza delle comunità parrocchiali per continuare a meditare le parole di invio missionario e di gratitudine offerte ai sacerdoti e al popolo dal nostro Vescovo. A pagina 3 l'editoriale del direttore Luigi Sparapano, una riflessione sul valore della domenica a posteriori del lockdown imposto dal Covid e sulla possibilità di dare più respiro ai ritmi di vita, fermando le attività commerciali e dedicandosi maggiormente ai propri cari e propri interessi e alla fede. Sempre a pagina 3 la cronaca di Susanna Maria De Candia dell'evento online post-festival della comunicazione Tempo di eratura per i cattolici in politica, organizzato dall'Ufficio Diocesano per la pastorale sociale e del lavoro lo scorso 29 maggio. A pagina 4 la rubrica di approfondimento dell'Episcopato di Monsignor Bello a cura di Don Ignazio Pansini sull'Ecarissia, Sacramento del Cammino, del Coraggio e della Speranza. A pagina 5 il racconto di Domenico Destena dell'evento Rigenerare i giovani protagonisti del cambiamento, organizzato il 27 maggio scorso dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e ringraziamenti del social market solidale alla comunità diocesana per la generosità dimostrata nei mesi del lockdown. A pagina 6 la narrazione di questo tempo che stiamo vivendo, aneliti, riflessioni, speranze nelle parole dei nostri piccoli redattori per la rubrica di Luce e Vita Ragazzi. A pagina 7 le recensioni di alcune recenti pubblicazioni sul Magistero di Don Tonino e la presentazione dell'iniziativa Imago Virginis, curata dal Museo Diocesano di Molfetta, sulle immagini della Vergine, oggetto di devozione nelle quattro città della diocesi. A pagina 8 il consueto commento del Vangelo della Domenica a cura di Suor Anna Colucci e alcune notizie brevi, l'esperienza musicale della Scuola Cantorum Armonia Mundi durante il lockdown, la presidenza diocesana eletta dall'Azione Cattolica per il Triennio 2020-2023, gli orari e la modalità di celebrazione per la festa del Corpus Domini il 14 giugno e a Ruvo per l'Ottavario il 21 giugno. Invitiamo a destinare il 5 per 1000 nella propria dichiarazione dei redditi, alle iniziative diocesane della Caritas e di Luce e Vita, riportando il codice fiscale dell'Associazione Stola e Grembiule. Potete leggere Luce e Vita nel weekend dal sito e dai canali social della diocesi o scegliere di sfogliare la copia cartacea ricevendola in abbonamento promozionale nelle vostre case. Appuntamento a giovedì prossimo e buona lettura a tutti! Grazie a tutti!